Facciamo un passo indietro. 24 e 25 febbraio 2013. Si vota le politiche. In Abruzzo c'è grande attesa per quello che potrebbe essere il risultato. Il PD affila le lame, il Movimento 5 Stelle in forte ascesa, la partita per la vittoria si gioca al Senato. A grande sorpresa il centrodestra tiene e vince in Abruzzo. Poteva essere la regione decisiva, non lo sarà, perché il Piemonte deciderà diversamente sui destini dell'Italia. A distanza di un anno e mezzo di quelle elezioni che portarono a Palazzo Madama, Gaetano Quagliariello, Paola Pelino, Federica Chiavaroli e diedero il via al fenomeno Antonio Razzi, che dei quattro resta il politico più in vista e più famoso, non resta nulla, solo macerie. Agli amministrative il centrodestra vive il crollo in diretta di quello che era il suo castello, solo a Teramo e per poco si salva. Alle elezioni provinciali, che non sono al suffragio universale, ma con i grandi elettori, questo va ricordato, il crollo diventa un cumulo di macerie. Al centro-sinistra vanno tre province su tre e il centrodestra perde tutto o quasi. L'ultima chiamata sono le amministrative a Chieti, il prossimo anno, ma anche qui il centrodestra sembrerebbe più diviso che mai. Effetto d'Alfonso a queste elezioni provinciali, ma soprattutto una crisi profonda del centrodestra, che sembra essere senza una via d'uscita. La madre di tutte le sconfitte, inevitabilmente, è stata l'ascissione di Alfano. Se Forza Italia riusciva a mantenere in piedi una certa coesione, pur con diverse anime, ma con una sola grande guida nazionale, quella di Berlusconi, una volta avvenuta la divisione, ecco le sconfitte a raffica. Soprattutto in Abruzzo, una terra dove il centrodestra affondava radici profonde. Forza Italia da una parte e il nuovo centrodestra dall'altra, pur dicendo in fondo le stesse cose, che la coalizione è coesa, che non ci sono differenze, che il centrodestra è unito. Alle chiacchiere, però, non fanno seguire i fatti. La gente non capisce e le elezioni si perdono. C'è anche da aggiungere un'altra cosa. La classe dirigente dei due partiti dovrebbe prendere atto delle sconfitte in serie che vengono raccolte. È il caso così di andare avanti? Non è forse arrivato il momento di cambiare il management? La puzza sotto il naso che qualcuno ha all'interno dei grandi manovratori del centrodestra abruzzese non sarebbe il caso di metterla da parte, rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare senza pensare di essere grandi politici e poi in fondo non esserlo? A proposito di Razzi, di cui si parlava prima, molti nel suo partito non lo salutano nemmeno. Lo considerano solo una macchietta. Peccato che questi perdano un'elezione dietro l'altra e nessuno li vede più, perché sono solo minoranza. Lui va in Corea e viene trattato come un capo di Stato. Ma un esame di coscienza e ammettere di aver sbagliato nei confronti di uno che piace alla gente non sarebbe ora di farlo. Con la presunzione non si vincono le elezioni, sarebbe giusto ricordarselo ogni tanto.